Come finì questa epopea? Penso che dai libri che si leggono comunque fu una cosa abbastanza repentina, da un momento all'altro la gente cominciò a non imbarcarsi più e anche la flotta oceanica a San Benedetto si dimezzò e poi sappiamo. Diciamo che il governo di allora non ha dato un seguito a un progetto, quindi automaticamente è venuto a scemare, poi sono cambiate anche le regole della pesca stessa in Africa che hanno allungato le acque territoriali, quindi bisognava investire per poi rifare nuove imbarcazioni e nessun imprenditore locale ha tentato questa nuova strada di nuova emissione, non che la gente non è più andata perché non c'era più la domanda, sennò la gente sarebbe andata comunque. Marco c'è ragione anche su questo, però è venuta anche a mancare quella quantità che all'inizio era come buttavi giù la rete di pesci e ne prendevi tanto, dopo arrivati i giapponesi, arrivati i russi, arrivati i coreani, era un macello là, non ci si poteva neanche più pescare in certe zone, per quanto tu pensa che lì ci stavano delle nave fattoria i russi che stavano fermi, all'interno lavoravano, loro prendevano tutto, imbarcava tutto, pesce buono, pesce non buono, quello che non era buono ci fecerano la farina e portavano in Russia, questo è venuto, come si può dire, ha dato un po' una ripulita al mare di quelle zone, anche se come dice Marco, se c'era un'accortezza a fare dei contratti con delle nazioni, se vogliamo dire così, si poteva anche andare in altre zone, tipo in Argentina, c'è stato pure un periodo che si sono andati in America, a Boston, mio fratello per esempio è stato in Nuova Scozia, che lì non era solo Marocco, ma era di più a livello di sofferenza, perché faceva un freddo, i marinai di qua a noi non l'avevano neanche visto, come arrivava l'acqua a bordo, anche se era salata, si gelava tutto, capito? Nella Nuova Scozia, come diceva Agostino, c'è una differenza, che ci sono gli americani che hanno un controllo sul territorio mare, cioè ci sono le regole, vanno rispettate, le barche non si possono permettere di imbarcare quello che vogliono, se no prendo le multe addirittura gli levano le licenze di pesca e le multe gliele facevano pagare gli americani, non era uno scherzo, mentre in Africa era tutto ancora in alto mare, non c'era una regolarità sotto questo aspetto qui, noi siamo stati degli sfruttatori, se noi andiamo a pensare, noi siamo stati come i coloni, i colonizzatori, noi abbiamo sfruttato quelle zone, a discapito dei padroni, dei padroni di casa, che erano gli africani, noi abbiamo tolto, tante volte noi guardiamo solo un aspetto, diciamo quello che ci fa come, però noi siamo stati una specie di colonizzatori del mare, noi siamo andati lì e abbiamo fatto il bello e il cattivo tempo, cosa che in altre zone di pesca del continente non abbiamo fatto, tipo in America c'è stata una regola ben precisa. L'ironia, vediamo quanto la storia a volte è ironica, perché la stessa generazione che in Italia fu la prima generazione, insomma una delle prime a far sentire il tema dei diritti del lavoro, nella pesca, con le cooperative, la copea, insomma i contratti, quella stessa generazione, adesso come dice Montecchiari magari metteva in atto una sorta di colonialismo. Il discorso di colonialismo è comunque il capitale che va a sfruttare un altro tipo di situazione, comunque l'avrebbe fatto? No, perché il pescatore di fatto, anche qui da noi, il pescatore comunque, io vi dico una cosa solamente, se nell'anno 1000 i contadini avessero fatto come i pescatori, noi non saremmo arrivati al 1200, nel nostro mondo saremmo morti tutti di fame, il pescatore ha una situazione di fondo che non pensa al giorno dopo, lui pesca, va lì, prende tutto, mentre il contadino è quello che lavora la terra in funzione del tempo, degli anni, nella continuità, ecco il problema di fondo, quindi loro raccolgono solo e raccolgono di tutto, ecco io in questo senso qui dico il discorso di colonizzatore, non nel senso che tu sei andato lì, perché il sistema te lo permetteva, in America dove non te lo permettevano, tu avevi un comportamento diverso, perché dai racconti che noi abbiamo raccolto anni in Augusto, quelli che sono stati in America parlavano di queste situazioni qui, addirittura se loro pescavano delle nasse con dentro le aragoste e dovevano ributtare in mare, noi facevano delle multe molto enormi, pesanti. Una domanda sulla genesi del libro, su come noi una mattina ci siamo incontrati sul treno e mi ha parlato del suo metodo di lavoro per intervistare questi pescatori, ex pescatori che non sono soggetti facili da intervistare se vogliamo, ci vogliono delle tattiche speciali? No tattiche, bisogna purtroppo portarli fuori dal loro ambiente e come un pesce lo devi portarli fuori dal pesce, però vi volevo rimarcare una cosa, vi volevo ringraziare Augusto Torquati, il mio grande amico e sono molto soddisfatto di aver fatto il libro con lui, veramente. Speriamo che, come ha detto l'assessore, che se avranno bisogno del nostro materiale noi siamo disponibilissimi a darlo, anche perché è un contributo che l'assessore Maramosso dà alla storia di questo paese, di questa città. Io penso che, no, il fatto stesso che magari Marco, le interviste che abbiamo fatto con loro, cioè con Agostino che poi ci conosciamo da tanti anni, insomma, quindi l'ambiente è quello, noi, a me è dato l'impressione che loro si sono aperti di più, magari forse un giornalista normale, con loro sarebbe stato più, quindi tanti racconti che troverai, tanti racconti anche duri, perché ci sono anche storie. Ma anche a vista dello studiore ci sarebbe stata una minore comprensione, perché non è meglio che il suo, a tutta quella... No, magari poi la forma, magari noi non è che siamo di bene, non siamo professionisti, facciamo tutto un altro lavoro, insomma. Tutto quello del crudo, quello che hai scritto lì, tutto quello del crudo, è vero, non c'è niente di 18, anzi, forse abbiamo un po' ammorbito, è vero, però le storie sono tante, cioè questa è una parte solo delle storie che... Alcuni magari sono più belli a livello al vivo, magari come racconto, altri magari scrivendo perdono, però... Magari poi i racconti orali, verbali sono anche più belli, per esempio per chi sta insieme quando si raccontano le cose, chiaramente, ecco, ripeto, noi non siamo, non è che la... non siamo professionisti, facciamo tutto un altro lavoro, magari, ecco, poi... Vogliamo contribuire alla storia di questa città, che è la nostra città, dove io ci ho visto, non ci sono nato io, ci ho vissuto, però è la mia città, quindi lui ci ha nato e ci ha vissuto come me, siamo coetani, quindi un anno ci sbagliamo, quindi noi amiamo questa città, come molti che vivono qui in questa città non amano, questa è la differenza tra l'amare e non amare, o viverci, ecco, io sono innamorato di questa città. Ma è il mio modo per dimostrare l'amore... È il mio modo di dimostrare il mio amore, questa coalizione culturale, affinché delle generazioni più giovani, come possono essere i miei figli, i suoi figli, un giorno i nostri nipoti, potranno dire, guarda un po', a San Metti c'è stata questa storia, e mio nonno o mio zio o l'amico di mio nonno ha scritto questo, cioè è fondamentale. Io vi ringrazio, chiudiamo qui, grazie di tutto. Grazie a tutti.